UN SECOLO FA Chi era quell'uomo? Quale segreto si celava dietro di lui? Non importa. Quello che importa è che voi state per morire. Quell'uomo era spietato nella vendetta, rapido nelle decisioni, infallibile nelle armi. Era un uomo che tutti avrebbero voluto vedere morto. Uno che si chiama Django. Un nome ed un film che non dimenticherete più. Django! Mi è rimasto un altro colpo. Ma sarebbe troppo facile. Django! Un uomo che alla durezza dell'azione sapeva unire la dolcezza di un amore senza speranza. Un amore che sarebbe durato un sol giorno, ma che valeva un'eternità. Allora bisogna che l'illusione sia completa. Breve, ma completa. Django! Un film nuovo, svietato, violento, interpretato da una nuova grande rivelazione del cinema italiano. Franco Nero. E da uno straordinario complesso di attori. E da uno straordinario complesso di attori. E da uno straordinario complesso di attori solo on iscrivita. E da un'escrivita da un'escrivita. E da uno straordinario,